Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua dopo una lunga assenza dal tube, sono Torniet, con Remember Me. Settimo appuntamento, questo video ci porterà alla fine del, spero, di questo capitolo 3, dovremo cercare l'entrata della bastiglia. Ok, domani ci sarà un video, un video questi, di giugno e metà luglio. Probabilmente una nuova mutazione, forse una forma più evoluta di lì, la sua mente è come un mare che ribolle fira e di angoscia. Esci in fretta dalla metropolitana, potresti incontrare di tutto là sotto. Qualche topo, qualche topo con la moto. Allora, di qua, passiamo di qui. Sicuramente levarci dalle palline. Che posto inquietante. E che c'hai l'asma, cazzo? Guarda che cazzo. Passettino, passettino. E che cazzo sono qui? Eeeh... Ah, la la... Eeeh, ciao, buonanotte. Quanti sono? Oh, merda. No, aspettate un attimo, porca puttana, mi sono... Po, 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 po. Scriva, scriva. Scriva, scriva. Eeeh no mi bimbi 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 Oh eccoti qua pezzo di merda Pa 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 Pim patapam patapim Uulalalala Eh mo ti prendo ammassattato Sì però una domanda Sti cazzi di remix dei ricordi Ne ho fatto solo uno Divertente Qui vivevano intere famiglie Prima che il governo le sfrattasse Per poter costruire la diga di Saint Michel E rendere sicura la bastiglia Sì però la diga Ma non c'è più E questo Cosa Ma cannati Sei peggio di un gatto in una cappaflus E il nostro ultimo turno Poi ripuliranno l'intera topaia Ok Ok Johnny vediamo come hai fatto Hey Johnny Ciao Johnny Oh che palle Oh 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 che palle Oh 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 cazzo le mine Buono 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 La bastiglia non è lontana da qui E allora valla a prendere Della gente viveva qui Emarginati Braietti che andavano portati lontano Dalla nuova fortezza della bastiglia Eh l'aiuto Aiuto E l'aiuto Andiamo Oh cazzo Ehi Ehm Piano Piano Oh Vai Uh Ce la puoi fare Sì 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 No ma ce la puoi fare Allora Di qua Di qua Di qua Porca troia Piano pianino Piano pianino Piano pianino Dove cazzo sono questi miei Ok Johnny Johnny A fanculo Piano 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 Bene Bene Cazzo Ho sbagliato Bottone Te did Te ti 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 Ah la madonna E' troppo veloce zio Eccoti qua Pim pum pam Ok Bene Piccolo test Sui comandi Fia un po' che non ci gioco Quindi ok Bene 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 Ok Perfetto Oh merda Sì sì Certo Come sei carino Ciao 少os scrummer Blu 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 ocus Wow Baccar ...ca troia non c'ho chiesto aiuto a casa da fare una parola... ...ma stai zitto non rompermi schia lo so... ...au... ...e qui le cose stanno andando... ...stamo andando male... ...molto male... ...ai ai ai... ...uuh... ...e riparati... ...ehh... ...ma sei cattivo... ...tutto quasi piccola... ...no piccola me non me lo dici capito... ...cippi che mirolla' ...cor Forum a Capito... ...unsi... ...molto male... ...ehh... ...tot... Oh, porca vacca. Bene. Oh, che cazzo è mo? Ah, porco cazzo. Ehm, em, em, em. Em, 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 em. Vabbè. Ok, cazzo. E mano, mano, non d'accapo, porca truia. Ah, la pazienza. E vai a cagare, dai, smetti adesso. Non mi prendi, gne 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 Ah, no Ma è rotto il cazzo Basta una mano per schiacciare Sì, sì, no, perché certo come no Oh, yeah Oh, cazzo Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Sì, no, ti spacco il culo Ciccatevi Ecco Così ti impari Robocazzone Ciccatevi Io ci ho chiesto che ci pesa La fogna, beh Cosa è successo? Ok Ok Ottimo Bene, 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 bene Abbiamo finito il capitolo 3 Abbiamo scoperto l'entrata della bastiglia E, 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 bù Ok, c'è un filmato Vi lascio vedere la fine di questo filmato E ci vediamo ai prossimi gameplay Ciao ciao da GeneticDNA La fortezza della bastiglia La più famigerata prigione d'Europa Al loro ingresso ai detenuti viene confiscata la memoria E solo a condanna scontata questa viene loro restituita Incapace di ricordare il mondo esterno i prigionieri della bastiglia Sono convinti che non vi sia alcun posto dove scappare Questo perverso modello di efficienza penale controllato da madame La crudele direttrice della bastiglia Padrona assoluta delle loro menti È lei l'unica chiave per accedere ai server del centro di reclusione mnemonica Dopo il mio arresto è lì che sono stata rinchiusa con gli altri erroristi Ora è già vuole che vi ritorni per liberare i nostri compagni E i ricordi che mi hanno sottratto Devo ammettere che il pensiero di tornare lì mi riempie di speranze e di terrore in ugual misura Grazie